Una domenica di up, una domenica di pump per bitcoin che si porta all'estremo dal lato alto del canale discendente che sta disegnando dai massimi di aprile 2023, 14 aprile 2023, però il canale non lo ha rotto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo un briefing solo sull'analisi tecnica, analisi ciclica dei mercati del cripto, guarderemo Nasdaq massimi di periodi relativi, nuovo annuale anche su Nasdaq iniziato a ottobre, insomma era un po' incerto fino a qualche tempo fa, poi col superamento di questa zona di massimo dei 14.000 punti, ovviamente lo ha sancito in maniera diretta. Andremo a vedere anche come è strutturato un po' Nasdaq ed Ethereum che anche insieme a Bitcoin ha raggiunto il livello alto del suo canale discendente. Attenzione perché un breakout di questa trendline discendente sancisce che dal minimo per quanto riguarda Ethereum del 12 di maggio e per quanto riguarda Bitcoin invece dalla secondo me zona del 25 maggio è iniziato una nuova fase ciclica interessantissima. Un po' prematura, ha scombussolato le carte come sempre fa, durerà o non durerà questa fase, il mercato ce la farà a superare questa zona temporale perché è questa zona di livello di resistenza perché ovviamente Bitcoin se non supera questa zona nulla è cambiato rispetto a quello che abbiamo visto già da un mese e mezzo. Questa è la struttura del canale discendente e questa fase di up deve superare questa zona qui. A livello ciclico però questo rialzo al di sopra di questo livello sancisce che qui in questo punto probabilmente è iniziata una nuova fase ciclica anche per Bitcoin un po' prematura. Va bene ragazzi allora iniziamo questo video andando subito a vedere però prima di ogni cosa quelle che sono i dati di natura macroeconomica che sono attesi questa settimana. Anche perché questi livelli di rialzo, queste fasi di pump di Bitcoin sono uscite un po' sulla news del debito pubblico americano che è stato raggiunto un pseudo accordo perché in realtà è stato rimandato il tutto dopo le elezioni degli Stati Uniti quindi in sostanza mi pare gennaio 2025 la questione del debito degli Stati Uniti. Quindi non che si pensi insomma che la questione non venga risolta in qualche modo però le agitazioni e le volatilità che si vanno a creare sono importanti. Poi il fatto è che il video sugli scenari apocalittici di un eventuale nonno diciamo conferma del debito molto improbabile e da cigno nero insomma un po' distopico. Detto questo andiamo a vedere però anche che nella giornata di oggi i mercati americani sono chiusi perché c'è la festa a parte i future insomma negli Stati Uniti c'è la festa del giorno della memoria quindi in pratica l'operatività di questa giornata non è un granché sufficiente a confermare un po' quella che era la struttura rialzista di Bitcoin. Tra le altre cose dobbiamo anche ragionare poi tra questo grafico di Bitcoin ragazzi e quello del dollaro quindi tutto in questo video ve lo faccio vedere tra un po'. Allora andiamo a vedere la questione quali sono i giorni importanti per questa settimana sicuramente non è una settimana apocalittica perché solo giovedì sembra ci siano una sfizia di dati che potrebbero avere un po' di impatto però ragazzi come già vi stavo dicendo e vi accennavo abbiamo all'inizio dell'anno parlato di quello che era la questione dei dati macro e da novembre abbiamo affrontato la questione dei dati macro legati all'inflazione perché il mercato li avrebbe guardati per un tot di tempo. Le news però non hanno un impatto sui mercati costante nel tempo perché le news sui mercati non impattano quasi mai tranne che le news di natura macroeconomica come appunto le politiche finanziarie monetarie scusate ragazzi della banca centrale europea o americana e l'impatto è limitato alla durata di quelle politiche fino alla comprensione un po' di quello che la banca fa cosa che è già avvenuta quindi dal mio punto di vista questi dati noi li analizziamo lo stesso di settimana però avranno un impatto estremamente ridotto rispetto a quello che abbiamo visto per esempio nelle precedenti fasi di oscillazione dei mercati quindi nelle precedenti fasi di up and down. Allora vi faccio vedere anche un altro grafico. Eccolo qui ragazzi allora con un po' di ritardo rispetto a quello che pensavo io al mercato si sta accorgendo vedete del fatto che i tassi saliranno anche nel prossimo FONC quindi nonostante insomma all'inizio era qui 80-90% vi avevo già accennato alla questione che a livello di politica monetaria questa cosa era un po' non corretta da parte dei mercati quindi l'attesa di un altro rialzo dello 0,25% dei tassi di interesse è già apprezzato o si sta iniziando ad apprezzare non è del tutto sicuro perché non è che gli analisti si sono spinti al 90% siamo al 66% però in pratica attenderanno un po' qualche dato mancano 16 giorni però vedete anche lo switch come da qui si è spostato in sostanza in questa zona quindi i mercati si sono spostati in pratica nella indicare che il rialzo dei tassi dello 0,25% potrebbe essere tranquillamente atteso anche nel prossimo FONC che avverrà fra 16 giorni quindi quello di maggio per quanto riguarda quindi gli ultimi dati sono la giornata di giovedì guardiamo la richiesta di sussidi per capire un po' qualcosa non c'è il PIL c'è però l'IPC quindi il tasso di inflazione dell'Europa utile per chi vive in Europa ovviamente nel comprendere se le politiche della Banca Centrale Europea stanno dando i loro frutti in teoria da quello che si vince da questi dati ancora no quindi è Europa sotto scacco fortissimo per il disastro legato al tasso di inflazione e ancora non riesce diciamo a rientrare nonostante il tasso di interesse veramente molto alto quindi che sale ancora ovviamente la Banca Centrale Europea continuerà ad alzare i tassi di interesse anche nelle prossime riunioni poi c'è il tasso di disoccupazione americano attesto in sostanza in leggerissimo momento ma praticamente insignificante rispetto al precedente dato quindi anche questo non dovrebbe scombustolare di granché i mercati andiamo a comprendere il concetto perché vi ho fatto vedere due grafici già adesso cioè quelle delle previsioni cioè quelle del dollaro che vanno analizzati per comprendere un po' la questione legata al concetto se questo rialzo dei giorni scorsi di Bitcoin può avere vita lunga o breve attenzione che non parlo delle oscillazioni ragazzi cioè un ritorno di Bitcoin intorno a 27,2, 27 e qualcosa è un po' anche normale in chiusura del ciclo settimanale che sta questo che abbiamo visto diciamo è un ciclo settimanale iniziato il 25 di maggio dovrebbe concludersi intorno alla 30, 31 e barra i primi giorni di giugno è ovvio che se il mercato non accelera a superare questo livello qui che è il livello del canale discendente se non lo brecca nell'arco di oggi domani ovviamente quando va a chiudere poi il ciclo settimanale potrebbe scendere tranquillamente un po' più giù e quindi magari accostarsi a queste zone però in realtà questa fase rialzista noi la dobbiamo vedere con un'ottica al di là di questa chiusura appunto del ciclo settimanale che dovrebbe avvenire vi ripeto fra circa 2-3 giorni al di là di questi 2-3 giorni di oscillazione dobbiamo guardare questo movimento dei giorni scorsi perché è stato creato non soltanto su un dato legato ai dati macro che si attendono un rialzo dei tassi quindi non è una previsione anche sul fatto che i tassi magari non saliranno quindi una reazione emotiva sbagliata probabilmente perché i tassi saliranno ancora di uno 0,25 quelli della Fed almeno così si pensa però, cioè dovrebbe fare Powell però in sostanza il mercato ha reagito sulle aspettative di rialzo dei tassi dalle precedenti aspettative di non rialzo quindi da una parte si passava da una fase positiva una negativa e il mercato ha reagito lo stesso andando su quindi questa è una diciamo decorrelazione o decorrelazione inversa rispetto al dato negativo del fatto che i mercati ora si aspettano un rialzo dei tassi e non un ribasso e poi c'è anche una specie di correlazione inversa rispetto al valore del dollaro perché il valore del dollaro negli ultimi giorni e nelle ultime settimane è salito ragazzi non è sceso quindi il valore del dollaro infatti anche rispetto all'euro siamo tornati a 1,07 circa con 1,11 che era nei precedenti nel mese precedente guardate qui dal minimo di aprile in questa zona in aprile ai primi di maggio ha fatto 1,2,3 e oggi inizia la quarta settimana quindi tre settimane verdi quindi nella scorsa settimana il dollaro comunque si è apprezzato mi è partito Metamask ragazzi ok ritorniamo al grafico allora si è apprezzato e ha fatto questo trend in questo modo nello stesso trend ovviamente Bitcoin stava un po' scendendo la reazione quindi della scorsa giornata è un po' isolata rispetto al concetto che vedete 1,2,3 qui siamo a livello dobbiamo andare a livello settimanale nella scorsa settimana vedete è stata fatta una settimana leggermente rialzista cioè abbastanza rialzista rispetto a una settimana rialzista anche di dollaro quindi anche qui una correlazione un po' strana perché di solito sono inversamente correlati i dollaro e Bitcoin perché Bitcoin ragazzi si prezza in dollari quindi se il dollaro si sale ovviamente Bitcoin scende se non va a compensare con la propria valorizzazione questo rialzo quindi in sostanza il rialzo della scorsa settimana dei mercati crypto di Bitcoin è un rialzo naturale cioè fatto proprio del valore di Bitcoin quindi non tecnico legato a un'aspettativa del mercato abbiamo visto sull'eventuale non rialzo dei tassi che non è così è non legato all'aspetto tecnico del dollaro che invece è salito anche lui quindi il rialzo della scorsa settimana è un rialzo solo di valorizzazione di Bitcoin e questo è un altro dato che potrebbe indicarci che appunto passati questi due o tre giorni che adesso il mercato dovrebbe più o meno ritracciare un pochino o attendere un pochino per chiudere il ciclo settimanale forse questo movimento potrebbe essere un po' più incisivo dei precedenti rimbalzi e quindi andare poi a breccare eventualmente questa fase ora la candela che si sta andiamo passiamo diciamo all'analisi tecnica e poi all'analisi ciclica proprio sui Bitcoin allora la candela che si sta delineando nella giornata di oggi non è una bella candela perché è una candela classica di top fatta tra l'altro questa giornata nella domenica quindi una giornata non puramente valida da un punto di vista tecnico legata al fatto che gli istituzionali magari non sono presenti questa candela è una candela di massimo se chiude male come sta facendo diciamo in questo momento è pericoloso perché ragazzi perché si può andare a innescare nella giornata prossima un breakout del minimo di questa candela e a quel punto nella prossima giornata potremmo assistere a un ritracciamento che andrebbe a rimangiarsi una buona parte se non tutta la candela della giornata di domenica quindi in sostanza questo rialzo oltre a farci sperare appunto per i discorsi che vi dicevo prima quindi essere delegato dall'andamento classico del dollaro è insomma un rialzo diverso dal solito che lo immaginiamo da questo punto di vista tecnicamente per un'analisi tecnica invece è solo un rialzo come un altro non rispetta in pratica una caratteristica di inversione perché non ha superato questa zona qui che è una zona di rimbalzo estremamente rilevante di resistenza rilevante 28.5 28.5 poi se superati da parte di bitcoin sancirebbero che sicuramente in questo punto è iniziata una nuova fase ciclica e poi il vero 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 livello di resistenza sarebbe 29.6 al di sopra del quale da questo punto indicheremo che è iniziato un nuovo ciclo trimestrale per bitcoin proprio sul minimo di maggio allora minimo di maggio che in realtà è avvenuto come vi dicevo non ci aspettavamo un minimo importantissimo perché con i rialzi fatti negli scorsi giorni poi la questione del minimo di maggio come minimo assoluto si era spostata però in ogni caso la scadenza temporale c'era e infatti nella scadenza temporale lo stesso bitcoin ha comunque completato una struttura di fase ribassista che sia definitivamente completata non lo sappiamo appunto in questo momento proprio perché queste zone costituiscono un doppio minimo evidente però fin tanto che questa zona resta intatta e soprattutto questa poi alla fine non possiamo dichiarare che in questo punto qui è stato concluso tutto il movimento ribassista iniziato da aprile al momento il movimento ribassista iniziato da aprile è tecnicamente ancora intatto nonostante appunto vi dicevo questo è un rialzo un po' diverso dal solito per una serie di motivi l'unico problema è stato fatto la domenica e la domenica con mercati americani chiusi con lunedì con i mercati americani in festa vale tanto e non quanto ecco questo andrà visto appunto nella giornata di domani dopo domani in questi giorni che dovremmo capire un po' se questo rialza è l'inizio di qualcosa di diverso questo dal punto di vista di analisi tecnica molto semplice molto basilare passiamo alla questione dell'analisi ciclica ragazzi allora la questione dell'analisi ciclica sta cercando bitcoin per l'analisi ciclica sta cercando un minimo per chiudere il suo ciclo trimestrale e il suo ciclo semestrale ora se il minimo fosse avvenuto in questa zona 25 di maggio ha fatto i 25.878 è vero che qui aveva fatto 25.800 ragazzi quindi teoricamente un minimo un po' più basso del 12 maggio ma per me non è così in quanto bitcoin oscilla in maniera consistente non è regolamentato da un punto di vista di valori simili nei vari exchange oscilla in maniera differente rispetto ai diversi exchange come prezzo perciò andare a considerare le shadow al singolo dettaglio del dollaro per me non è corretto è ovvio che è una mia opinione insomma non è che a forza bisogna pensarla in questo modo ragazzi io faccio così insomma mi sono trovato sempre bene in questi ultimi 4 o 5 anni e quindi continuo a fare così quindi io vi indico il concetto al mente che se da qui è iniziato un nuovo ciclo trimestrale darò per minimo quello del 25 di maggio anche perché comunque Ethereum l'ha fatto l'ha fatto prima e infatti su Ethereum in ogni caso vedete Ethereum l'ha fatto il 12 maggio e in questo caso potremmo assistere magari su Ethereum ha una view differente ed è bene tenercele entrambe come facciamo sempre così abbiamo due punti di vista diversi però per me Bitcoin indica qua ora 76 giorni di ciclo trimestrale 185 di ciclo semestrale sono più che sufficienti per la chiusura di un ciclo trimestrale e semestrale perciò vanno benissimo a livello di analisi ciclica si aspettava un minimo proprio nella zona di maggio è avvenuto ce l'aspettavamo a fine maggio è avvenuto io me lo aspettavo un po' più in là cioè nella giornata di oggi domani in realtà il candelone di ieri era un po' inatteso la domenica poi non mi piace questo tipo di operatività e quindi sostanzialmente ho un po' ancora l'occhio distratto l'occhio un po' malevolo che dice ma non mi fido di te quella cosa lì perché in effetti ragazzi voglio avere altre conferme i miei sistemi di trading sono però entrati long quindi io li ho seguiti fermo restando a malincuore perché non sono convintissimo però vedete in questo caso io ho un piano una strategia e la seguo a prescindere dai miei dubbi personali perché i mercati e il trading e gli investimenti vanno gestiti così ragazzi bisogna seguire quelle che sono le proprie strategie vediamo se ha ragione la macchina il sistema la strategia o i miei dubbi saranno un po' diciamo sensati fra qualche giorno vediamo un po' allora detto questo quindi a livello di analisi ciclica potremmo essere in un nuovo ciclo semestrale che ci lascia spazi per delle view estremamente interessanti ragazzi con una struttura ciclica diversa anche rispetto ad alcune attese fatte nei primi mesi dell'anno interessantissimo perché questo semestrale se è iniziato lo scopriremo entro una ventina di giorni circa la conferma l'avremo lì perciò bisogna ovviamente attendere al momento come vi dicevo non è neanche invertito il canale discendente perciò sono solo supposizioni quindi è inutile che parlo di queste eventuali view però se effettivamente verrà confermato questo inizio di nuovo trimestrale in questa zona di bitcoin sarà interessantissimo andare a ragionare su queste view perché ci portano due scadenze bellissime con due fasi di possibili topping nell'anno 2023 e non ve lo spoiler facciamo così va bene allora e niente ragazzi allora questo andiamo a vedere poi la questione di ethereum anzi vi porto prima nasdaq poi ethereum così per concludere la questione allora secondo me nasdaq ragazzi ha chiuso un ciclo mensile in questa zona un po' corto 21 giorni un po' corto oppure li sta facendo di natura ternaria quindi li unirà in pratica entrambi facendo più o meno una sessantina di giorni ci può stare questa zona qui però mi aspettavo anche qui un ciclo leggermente più lungo questo dovrebbe essere sostanzialmente la struttura dei due mensili di nasdaq che si sviluppa insomma probabilmente in questa zona con un nuovo ciclo anche lui semestrale che punta a fare il massimo probabilmente del ciclo annuale di nasdaq attenzione perché su questo tipo di mercati spesso spesso c'è un po' di diffidenza in queste zone rialziste ora vediamo se riesco ad andare indietro nel tempo sufficientemente per farvi vedere alcune cose ma non me lo dà qui devo farlo con altri grafici va bene lo vedremo poi successivamente ragazzi a volte proprio questi inizi di questi trend che sembrano spuntare come funghi in zone difficili non con insomma strane in momenti difficili dell'economia poi alla fine sono duraturi quindi mi raccomando trend is your friend è fondamentale insomma da qui il nasdaq ha sempre fatto un trend rialzo perciò ancora per parlare di inversione ce ne vuole qui siamo in forte rialzo certo a livello di analisi ciclica questa zona è una zona di topping cioè una zona di massimo dei mercati a livello di nasdaq a livello ciclico ora se questa zona di topping la farà lo scopriremo in pratica tra poco quindi io sono sempre trend follower a prescindere sui mercati ragazzi però un po' attento ci sto perché questa area temporale che poi però vedete fino a settembre ancora è valida è una zona in cui il mercato potrebbe tranquillamente fare il suo massimo del ciclo annuale iniziato a ottobre e poi andare a chiudere il ciclo annuale nella mese di settembre scusate allora qui era agosto quindi settembre ottobre 2023 questa è la zona temporale però ciò nasdaq ragazzi prima di avere un'inversione è inutile secondo me fare molte conclusioni perché sono un po' basate su idee più che altro il trend è rialzista quindi bisogna continuare a seguirlo allora tra le altre cose vi ricordo anche che la struttura del grafico vedete del edy di x scusate di x y di x della cripto e ancora teoricamente non sappiamo se deve andare a fare questa zona di minimo proprio a scadenza del 2024 se lo fa ed è molto anomalo una campana un swing ribassista di dollaro sarebbe ovviamente visto bene anche dai mercati classici quindi il nasdaq a prescindere ethereum nella stessa identica situazione del canale di bitcoin quindi ancora non ha spondato il canale al ribasso quindi il canale ribassista attenzione un break di questo livello porta ethereum a 2000 dollari solo 2000 dollari sopra 2000 dollari indica che qui è iniziato un nuovo ciclo probabilmente semestrale anche per ethereum attenzione perché su ethereum tutta una view estremamente complessa tutta una view molto diversa e c'è una nuova scadenza anche da andare ad analizzare dal punto di vista di ciclo mensile il ciclo mensile dovrebbe chiudersi verso la metà di giugno ancora a spazio per poter provare nuovi pump in questa zona nella prima settimana di giugno e poi andare a chiudere questa struttura ciclica magari facendo un pullback di questo canale ribassista eccetera ma di questo ne parliamo poi con calma altrimenti il video viene molto lungo c'è una struttura ciclica diversa su ethereum se conferma questo breakout ed è interessantissima come quella di bitcoin perché prevede un altro ciclo semestrale e prevede un'altra data per la chiusura di tutto questo ambaradam ethereum molto più forte di quello che ci si aspettava molto più resiliente da tanti punti di vista e sta chiudendo anche il ciclo contro bitcoin e sarà interessantissimo comprendere cosa succede dopo la chiusura del ciclo contro bitcoin è un ciclo quadriennale quindi fortissimo eppure non si vede neanche un minimo di ribasso di forza relativa contro bitcoin e da lì invece tante cose al season dopo giugno insomma tutte quelle cose che ci siamo detti poi le andremo a vedere per oggi è tutto fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi di questo rialzo e noi ci rivediamo nel prossimo video